Benvenuti al nostro TG Sport Cari amici di Telemolise Cresce all'attesa per la sfida dell'Angelini tra Chieti e Campobasso di Poseria Rosso Blu pronta a sostenere la squadra nella gara più importante della stagione La testata giornalistica sportiva di Telemolise Trasmetterà la gara sul Canale 11 a partire dalle 14.35 Con ampio prepartita e commenti live dei protagonisti al termine del match Uno sforzo economico e organizzativo da parte della nostra emittente E naturalmente un ringraziamento speciale anche agli amici sponsor che sostengono con affetto e dedizione il nostro lavoro La partita più importante dell'anno per il Campobasso sarà domenica allo stadio Angelini di Chieti La testata giornalistica sportiva di Telemolise scende in campo con la diretta integrale della gara A partire dalle 14.35 Vi aspettiamo sul Canale 11 Un grazie sentito ai nostri sponsor Forza Lupi Salupi 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 Ultimi due giorni d'allenamento per le molisane impegnate con il trentatresimo turno di campionato. Ultima trasferta dell'anno per il Campobasso. I destini rosso-blu potrebbero dipendere in gran parte dalla gara dell'Angelini contro il Chieti di Pasquale Luiso. Allenamenti riservati, decisi da Pergolizzi e dalla società, probabilmente per tenere un'attenzione ancora più elevata. Servirà un Campobasso più lucido e concreto rispetto a quello visto per alcuni tratti della gara pareggiata contro il notaresco. Intanto, in città, fra i tifosi, crescono le aspettative. Qualcuno prova a confidare in regali del Termoli, che deve ancora sbrigare matematicamente la sua pratica salvezza. Qualcun altro si augura una gran partita del Campobasso all'Angelini. Qualcun altro inquadra il Chieti come un avversario sempre duro in casa propria. In mezzo a questa serie di pareri che precedono domenica, la realtà è che il Campobasso, squadra, staff e tecnico, oggi sono padroni del proprio destino in un senso o in un altro. L'unico acciaccato del gruppo è il greco Criso Vergis. Per il resto, Pergolizzi, non dovrebbe avere grane di formazione. L'orientamento è sempre per il 3-5-2 e sorprese sugli interpreti non dovrebbero essere alle porte. Oggi Campobasso e l'Aquila, prima e seconda in classifica, hanno vinto lo stesso numero di partite, 19. Rimane una differenza vitale per il rosso-blu Molisani, legata matematicamente ad un pareggio aquilano e ad una contestuale vittoria dei Campobassani. Proprio il Termoli è ad un passo dal suo obiettivo stagionale, la seconda salvezza consecutiva in quarta serie. Sul cammino dei Giallorossi, l'Aquila, prima e Campobasso, ma anche la possibilità che un play-out non si disputi e che la permanenza possa aggiungere ugualmente il tutto a coronamento di un girone di ritorno da incorniciare, con otto vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. L'FC Matese appare ormai senza speranza e destinato al ritorno in eccellenza molisana. Sul cammino dei Casertani c'è quel Monte Rotondo che ha rifilato domenica scorsa, tre gol al Chieti in poco più di 40 minuti. Il pronostico parla in favore dei Laziali, oggi con l'obiettivo di annullare con lo sbarramento uno dei due play-out. Il vasto Girardi in vista del Tivoli recupera Ruggieri, Cecuzzi e Gargiulo, tutti dalla squalifica. I primi due potrebbero prendere il posto di Acunzo, che ha giocato in difesa, e di Anto Giovanni, Camarà al posto di Zuccherato infortunato, uscito nel primo tempo della vittoriosa trasferta di Senigallia. Le speranze degli altomolisani sono intatte, ma legate anche ad altre circostanze. Il Tivoli rimane avvisato. Massimo sforzo anche da parte della società del Campobasso, che in questo finale di stagione non vuole far mancare il proprio sostegno al mister e ai calciatori. ne abbiamo parlato con il socio Marc Consuelos. Un commento su questo 1-1 fra Campobasso e Notaresco. È un po' duro, ma siamo ancora a due punti e dobbiamo vincere. Adesso il cerchio si è ristretto. L'abbiamo detto con Matt Rizzetta, i bonus sono terminati per il Campobasso. Quindi si è costretti, tra virgolette, costretti a due vittorie consecutive. Sì, o se perdono l'Aquila o pareggiano l'Aquila. Certo, se perde sempre, se l'Aquila dovesse continuare a vivere. Non devono perdere, no? Il tuo stato d'animo alla fine di questa partita? Eh, sono ancora fiducioso e credo che possiamo farlo. Ma certo che bisogna essere fiduciosi perché alla fine si è primi con due punti. Tutti invidiano la posizione del Campobasso e vorrebbero trovarsi nella posizione del Campobasso. Ci si aspettava una vittoria. L'avversario ce l'ha messa tutta? Sì, mi ha messo tutto e era uno di quelli giorni che il pallone non voleva andare dentro. Ma meritavano una vincita. Il Campobasso. Sì. Come hai visto, diciamo, magari c'è stata una flessione dopo l'1-1 del notaresco da parte del Campobasso. Come te lo spieghi? Devo dire che io stavo guardando un po' l'altra partita, quando ero 1-1, mi sentivo qualcosa, ero contento. Poi ha segnato l'Aquila. Allora, abbiamo detto che questo campionato, per quanto riguarda il discorso promozione, sta diventando una guerra di testa, di nervi anche. È sempre così. È sempre così. È questo che fa il gioco. È bellissimo. Il campionato è bellissimo. È lungo, è duro. È per questo tutti amano il calcio. L'ultima cosa. Allora, sappiamo che Matt Rizzetta rimarrà qui fino al giorno della conclusione del campionato, cioè il 5 maggio. Tu, invece, che piano hai? Forse, magari, vengo a Chieti perché voglio essere vicino alla squadra. Va bene. Il pre-partito è stato molto bello. Il giro di campo e i 6.500 di Selvapiana. I moli del Molinari. Bellissimo. È bellissimo vedere i tufosi tutti qua in casa. Fino alla fine non molano niente. Mi fa grande piacere. Vole di Serie B. Turno di riposo previsto dal calendario per l'Energy Time. Una settimana di stacco importante dopo l'impresa di Genzano per recuperare un po' di energie fisiche e mentali. I ragazzi di Maniscalco sono tornati in vetta alla classifica. Nelle ultime due di campionato dovranno difendere la prima posizione in vista degli spareggi play-off. Basket di Serie A1. Quarti di finale play-off. La Molisana Magnoli ha alzato bandiera bianca all'overtime in gara 1 contro il sesto San Giovanni. Magnoli è obbligato a vincere domenica gara 2 in Lombardia per allungare la serie. Ne abbiamo parlato con una delle protagoniste. Nina Dedic, peccato. Dopo due overtime è arrivata una sconfitta. Davvero che fa male. Sì, fa male. Sì, è un peccato perché ce l'abbiamo provata, non ci siamo mai arresi. Poi loro avevano forse anche più rotazioni rispetto a noi e quindi è arrivata questa sconfitta. Però c'è gara 2 tra qualche giorno e lì avete già vinto. Sì, abbiamo vinto la prima partita lì, ma... Ho detto già abbiamo vinto lì, proveremo in tutti i modi a portare la serie a gara 3 perché vogliamo comunque arrivare a conquistare il passaggio del turno. L'ultima domanda è stata una partita davvero dura, molto molto dura. Lì sotto con Moore, insomma, Guatmei e poi c'era Trucco. Insomma, non è stata proprio una serata tranquilla. Ha detto che le rotazioni loro sono state tante, avevano sempre giocatrici fresche, forse è quello che è mancato a campo basso, però ci proveremo sino alla fine. Nel campionato di serie B, le giovani Magnoli è domani in campo per ottenere il terzo posto nella finale playoff con Campania, Puglia, Basilecate e Calabria. In caso di successo le Rosso Blu potrebbero ancora ottenere il salto in A2. Avversario l'Agropoli Pestum con palla 2 alle 17.30. Adesso il futsal di serie A2 Elite. Ultima giornata nel girone B di A2 Elite. Canosa, Sicurlube, Cesena, Cus Molise, Città di Melilli, Giovinazzo, Manfredonia, Benevento, Polisportiva Futura, Itria, Roma, Calcio a 5, Capurso, Riposa, La Sportiva, Lazio. Ultimi 40 minuti di gioco. Trasferta per il Cus Molise, ospite del Cesena. Ultima giornata nel massimo torneo di futsal. L'Ital Service Pesaro, dopo il prezioso successo ottenuto a Viterbo una settimana fa grazie alla rete di Mugnoz, riceve il Napoli domani alle 21 con il chiaro obiettivo di preservare la sesta posizione. Serve un successo agli uomini di Scarpetti per mantenere il piazzamento all'interno della griglia playoff. Grazie al successo contro l'Active Network, i biancorossi hanno staccato il biglietto per l'accesso alla post-season, obiettivo raggiunto per il tecnico Esernino chiamato a risollevare le sorti del Pesaro dopo la salvezza ai playoff ottenuta nella passata stagione. Ora c'è voglia di difendere il sesto posto in classifica dagli attacchi del Sandro Abbate Avellino e della Fel di Eboli, attese da gare casalinghe agevoli sulla carta. Domani tutte in contemporanea in serale a seguire il via alla post-season che assegnerà lo scudetto tricolore. Ultimi 40 minuti di gioco effettivi anche in A2 Elite. Trasferta emiliana per il Cusmo Lise, ospite del Fuzz al Cesena. Condizione complicata per la squadra di Mister Sanginario, attualmente al penultimo posto con un distacco di 6 punti dal Capurso e 7 dalla Sicurlube. Ricordiamo che per assicurarsi almeno lo spareggio playoff, il team molisano non deve distanziarsi di oltre 7 punti dalle dirette avversarie in virtù dello sbarramento. La Sicurlube Regalbuto sarà ospite del Canosa, già retrocesso da tempo. Facile ipotizzare che i siciliani sono con oltre un piede e mezzo in A2 Elite anche per la prossima stagione. Il Capurso sarà ospite della Roma Calcio a 5, una trasferta difficile per i pugliesi, considerato che i capitolini hanno la possibilità di chiudere al terzo posto la regular season. Sappiamo altresì che l'ultima giornata in tutti i campionati sfugge, spesso e volentieri, ad ogni dinamica ragionevole. Per questi motivi il Cusmo Lise, per essere certo di approdare playoff ed evitare la retrocessione diretta, dovrà vincere domani a Cesena. I bianconeri sono a centro classifica, lontani da ogni logica di classifica, se non con la volontà di chiudere bene la stagione dinanzi al pubblico amico. I Cussini dovranno far valere le motivazioni, giocare un match attento e sfruttare la serenità degli avversari che vivono la sfida in totale tranquillità. Di Stefano e compagni hanno il compito di arrivare almeno allo spareggio playoff, da giocare con grande probabilità con il Capurso e cercare di salvare una stagione negativa con la coda postseason. Concentrazione massima, un match che deve servire anche per ritrovare entusiasmo, considerate le sei sconfitte consecutive, in buona sostanza il Cuss non muove la classifica da due mesi. Infine Chiosa sul campionato, sabato scorso il Benevento ha chiuso definitivamente i giochi, con il successo sul Melilli. Gli stregoni approdano in A1 con merito dopo un torneo condotto in vetta per buona parte. Tutti disponibili per la gara di Cesena. San Ginare potrà contare su tutti gli effettivi, compreso Joao Rappa. Joao Rappa avete perso 7 a 2, insomma il risultato dice tanto sulla partita. Secondo te che cosa c'è stato di sbagliato e soprattutto potevate dare qualcosina in più? Sì, sicuramente potevamo dare qualcosa in più. Secondo me siamo partiti un po' con l'atteggiamento sbagliato. Abbiamo preparato la partita da un modo, dopo da un acerto non siamo più riusciti a fare quello che volevamo. Avete realizzato anche tanto, anche bene, però le conclusioni non siete riusciti a finalizzarle poi nel modo giusto. Dando uno sguardo al campionato che ormai si è concluso, che cosa ti senti di dire? Già prima era ogni partita una finale, ma adesso tocca da guardare da un altro modo, cioè entrare in campo già da un altro modo. Ecco, adesso ci deve essere proprio quella green tie in più perché c'è questa rush finale, vi giocate davvero il tutto per tutto con i play-out. Quindi non solo arrivare a Cesena con il giusto atteggiamento, ma anche guardarla un attimo in prospettiva futura. Sì, sì, sicuramente. Già la prossima partita dobbiamo giocare come dobbiamo giocare in play-out perché dobbiamo tenere la categoria sicuramente. Torneo delle regioni di Futsal, sconfitta al debutto contro la Sicilia per la selezione junioress, allenata da mister Sanginario, 5-2 risultato finale nella seconda gara del girone eliminatorio, i molisani impegnati con la Sardegna. Calcio regionale, ultime due giornate di campionato nei tornei d'eccellenza e promozione, questo weekend turno concentrato domenica per garantire la contemporaneità nei match nel massimo torneo, in anticipo al sabato Casertano, Sesto Campano, Gioiese, Castel di Sangro e ancora Campomarino, Cliternina. Quest'ultima gara in anticipo per motivi di ordine pubblico. Il Venafro attende i rivali Mosani per l'ultima gara tra le mura amiche. Sabatino Fabiano, arriva un'importante vittoria per il Venafro, consolidate il quarto posto e come giudichi questa partita? Sì, siamo partiti secondo me bene, abbiamo fatto il nostro gioco, poi siamo andati sotto, abbiamo fatto un piccolo errore tutti quanti, però poi siamo venuti bene alla distanza e abbiamo portato a casa il risultato. Settimana scorsa invece era arrivata la sconfitta contro il difesa grande, secondo te che cosa è cambiato per portare a casa questa partita? Niente, il difesa grande secondo me si è dimostrato un po' superiore a questa squadra qui, così come il Campomarino e penso che alla fine loro meritano questa classifica che hanno. Prossima settimana sfida in casa, ovviamente si punto a onorare al meglio questo campionato. Sì, 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 a sfida in casa cercheremo sicuramente tre punti, vogliamo chiudere addirittura al terzo posto, se il Guglionesi ci lascia qualche punto per strada faremo la nostra partita e andiamo avanti insomma. Campionato ormai finito per il sesto campano, obiettivo chiudere al meglio la stagione. Mister Cecchino del sesto campano, arriviamo in questa sconfitta interna con il fanalino di coda a Campomarino, eravate un po' rimaneggiati, insomma qualche assenza, poi in avvio di gara subito la prima sostituzione, credo per infortunio, l'avete sbloccata ma poi nella ripresa insomma è venuto fuori il Campomarino e nel finale avete provato a riprenderla. Diciamo che è stata una partita condizionata un po' da quello che hai detto tu, avevamo due essenze in difesa, titolari e si è fatto male subito un altro centrocambista di Rolano e riscaldamento, ma questo non vuol dire niente, il problema è che mancano le motivazioni perché una volta passata in vantaggio ci siamo un po' accomodati, poi abbiamo fatto degli errori individuali e dopo il Campomarino aveva maggior voglia di vincere, di portare a casa i tre punti e ha meritato di vincere. Sì, ora due gare dal termine del campionato, ovviamente l'ospicio è di chiudere nel miglior modo possibile, come credo che vi siete prefissati da qualche giornata, anche da quando insomma il verdetto per la parte alta della classifica era già uscito. A me dispiacerebbe se da qui alla fine non riuscissimo più a vincere una partita perché non vinciamo da parecchio tempo, però il campionato nostro già qualche mese fa non aveva più niente da dire, potevamo ben figurare, a me dispiace questo fatto qua perché ci tenevo a restare nei primi cinque posti, però purtroppo le partite vanno così, si affrontano squadre più determinate e vincono, questo è diciamo il assunto di tutto. Tennis sui campi in terra rossa del Forte Village a Santa Margherita di Pula in Sardegna, è in corso l'evento ITF Combined nel torneo maschile Federico Iannacone, non a testa di serie, ha centrato la semifinale sconfiggendo ai quarti Luca Potenza in 2-7, 7-5, 6-3. Domani il ternista Campobassano sfiderà lo spagnolo Carlos Sanchez Jover per guadagnarsi l'accesso alla finale. Torniamo a parlare di calcio regionale, prova di forza del Vairano nello scontro diretto di Baranello, domenica in campo contro il Rocca Ravindola. Marco Di Baia, difensore del Bois Vairano, grande dimostrazione di forza per voi, un 4-1 rotondo sul campo del Baranello, vittoria in discussione strameritata. Assolutamente, non pensavamo che venivamo qua a fare una partita del genere, però so della forza della nostra squadra, di ogni componente a partire dai ragazzi e dalla società e ero convinto che venivamo qui a fare un'ottima prestazione portando rispetto perché sapevamo che anche loro sono un'ottima squadra, però noi mi sento di dire che dalla seconda metà di stagione abbiamo messo il piede sull'acceleratore ed è importante, molto importante. Tre punti veramente pesanti che vi mantengono in prima posizione, 64 punti, 21esima, vittoria su 28. Assolutamente, dicevamo poco anzi che salgono le prime due, però noi giochiamo per arrivare primi, che per chi gioca è diverso, quindi anche le prossime partite giocheremo per vincere, senza guardare i risultati delle altre, ma anche portando rispetto alla nostra società che ha fatto molti investimenti e se lo meritano, che lottiamo fino alla fine per arrivare al primato. Dopo tanti campionati a sesto, ricordiamo lì ovviamente d'eccellenza, sei stato un perno, hai scelto di sposare questo progetto e far salire Vera? Sì, dopo un po' di anni ho deciso di cambiare, all'inizio stavo nel Lazio a Cassino, poi ho avuto l'opportunità, questa chiamata del Varano, società giovane, però molto ambiziosa e questo mi ha colpito, non mi ci ha fatto pensare due volte e sono molto contento della scelta perché secondo me se lo meritano, sono giovani, magari non hanno tantissima esperienza, però fanno le cose come si devono e questo risultato è anche per loro. L'ultima cosa, adesso due partite, 180 minuti, ovviamente fare sei punti, arriva il Roccaventola da voi e poi finite a Morcone, l'obiettivo è fare sei punti. Allora, partiamo dalla prossima che sarà quella con Roccaventola, giochiamo l'ultima in casa, ci aspettiamo che magari loro non regalaranno nulla perché dovranno fare punti per salvarsi, però noi giochiamo l'ultima in casa e avanti la nostra gente ci teniamo a fare bene, quindi pensiamo una per volta e ora ci godiamo il momento. Bocce tutto pronto per il 17esimo trofeo, l'elio pallante, 20esimo trofeo, città di Frosolone. La gara nazionale prenderà il via alle 15.30 di domani, un evento organizzato dalla bocciofila frosolonese, preseduta da Pasquale Mangione. Per ricordare il nostro editore, nonché ex sindaco del Comune, Alto Molisano, arriveranno nella nostra regione i migliori atleti della specialità per contendersi l'ambito trofeo. La nostra emittente seguirà in diretta l'ultimo atto della manifestazione domani pomeriggio a partire dalle ore 18 sul canale 18, ore 18.30 sul canale 18.00. Sempre per le bocce, l'abruzzese Sebastiano Barbieni si è giudicato il trofeo Paolo e Maurizio Bobbo, gara a carattere regionale, specialità individuale, sconvincendo in finale il molisano Attilio Notte. La manifestazione è stata organizzata dalla Madonna delle Grazie di Termoli. Noi abbiamo avvicinato il presidente. Gianfranco Di Fonzo, presidente della bocciofila Madonna delle Grazie di Termoli. Memorial Bobbo si conferma come mai puntuale ogni anno. Nuova edizione, stagione 2024. Ottimo riscontro, soprattutto perché in pista ci sono stati tantissimi atleti, arrivati un po' da tutta Italia. Sì, effettivamente quest'anno ricorre la trentesima edizione, se non vado male con il ricordo, del Memorial Bobbo, Paolo e Maurizio. Ormai si può dire che è quasi una consuetudine per la nostra società. Dobbiamo essere realisti, noi sappiamo bene che il Memorial, dopo un po' di tempo succede che non vengono più fatti, perché per mancanza di fondi, per mancanza di spirito, di voglia di fare. Insomma, noi abbiamo raggiunto la trentesima edizione, di questi siamo molto soddisfatti e molto contenti, anche perché abbiamo avuto la partecipazione di due o tre gironi di Serie A, con campioni, giocatori veramente affermati a livello nazionale. E questo per noi è un ricordo di soddisfazione. Maurizio e Paolo, Bobbo, più nomi importanti per la bocciofila Madonna delle Grazie, due personaggi che hanno gravitato per tanti anni, hanno fatto anche il presidente di questa bocciofila, un nome che avete tutti nel cuore, soprattutto che ha una certa età, che è passato negli anni, con gli anni, ha vissuto anche il ricordo di questi due personaggi che hanno dato tanto alla bocciofila Madonna delle Grazie. Paolo Bobbo è uno dei soci fondatori della nostra società e ci ha dato tutto. Lui ci ha messo proprio l'anima, anche a livello economico, se lo poteva permettere, e dunque ha dato tutto per la nostra società, affettivamente, con l'impegno, con il contributo finanziario e poi con la voglia, perché lui era un grandissimo appassionato di bocce, per cui partecipava a tutte le gare che si svolgevano sia a livello regionale che nazionale. Calcio giovanile, lo stadio Civitelle di Agnone ha ospitato ieri il dodicesimo torneo Atene del Sannio, riservato alla categoria allievi. Ad aggiudicarsi il quadrangolare sono stati padroni di casa dell'Olimpia agnonese che hanno battuto 3 a 2 la Renato Curi-Pescara. Nella finale terzo e quarto posto, la Jumene ha avuto la meglio sulla Virtus-Lanciano. Importanti riscontri per il convegno alla mobilità del futuro organizzato dall'ACI Molise. Professor Vito Mauro dell'Osservatorio Smart Road, un appuntamento importante organizzato dall'ACI Molise sulla mobilità del futuro. Sicuramente stiamo vivendo una fase di transizione importante e è fondamentale informare anche il vasto pubblico molisano sugli orientamenti del futuro. Certo, ha detto molto bene. È molto importante che tutti noi ci prepariamo a queste transizioni che sono in atto, sono inevitabili, quella energetica e quella digitale. Dobbiamo capire bene quali sono le opportunità, eventualmente anche i rischi, per approfittarne. Perché saremo noi gli attori veri di queste transizioni. Quindi saremo noi a dover utilizzare al meglio le opportunità che ci offrono le nuove auto, i nuovi sistemi di mobilità, i nuovi servizi e le nuove cose che dobbiamo imparare a utilizzare. Assolutamente penso alla transizione, magari è più semplice per le nuove generazioni, le persone che sono abituate in un altro modo la vedono con un po' più di difficoltà. No, io non ne farei una questione di età, non posso farne una questione di età. Si tratta soprattutto di essere più curiosi, più attenti. La cosa più negativa che si nota in queste transizioni è il tentativo di resistere. le transizioni accadono comunque indipendentemente da quello che vogliamo fare e il modo migliore di agire è cercare di controllarle, capirle, approfittarne. Resistere normalmente non funziona bene. Assolutamente, nelle grandi città già da tempo insomma abbiamo assistito a centri storici bloccati, insomma chiusi alle macchine non ibride, non elettriche. si sta andando anche verso un orientamento magari di servizi pubblici senza guidatore insomma sicuramente la transizione è netta rispetto al passato. Sì, un grosso cambiamento che stiamo cercando anche di aiutare come Ministero è quello della transizione verso le forme i servizi alla modificità in modo da permettere all'utente di utilizzare tutti i servizi disponibili senza focalizzarsi su un tipo o su un altro senza dover ricorrere sempre all'auto sua come unica alternativa proprio per godere al meglio delle opportunità che offrono le diverse offerte di sistemi di trasporto. Bene, è tutto, buon pomeriggio! come unica alternativa come unica alternativa come unica alternativa che mi piace mi piace come unica alternativa